La prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia. E che cos'è la malattia? Cioè, non sai che cos'è la malattia. La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda e tu per restare a casa tranquillamente a mangiare, a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale è che devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti, sia la mattina e il pomeriggio che se viene il medico e non vi trovi, vi licenzi. Ok? Ok. Ma si può fare? Si può fare. Basta che tieni il certificato medico e si può fare. Ok? Ok. Ok. E chi ci controlla? Ma oggi, il medico. Controlla, viene a casa, bussa, tata, apri, poi, uomir, tutto a posto. Se invece il medico viene e non ti trova, ha, 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 licenziato. Penso che è chiaro, no? Ok? Ok. Ok. E chi lo fa il certificato? Ma, l'ho detto molto, tengo pure il testimone. L'ho detto molto, lo fai il certificato, lo fai il medico, l'ho detto adesso. Ok? Ok. E quindi cosa bisogna fare? Lavorate. Ma pur, non è cosa per voi, lavorate. Andate a lavorare, va bene? Il certificato non lo mandate. Cioè, mandate il certificato solo in casa di morte. L'avete l'elfo delle pompe funebri? L'elfo funerale, lo tenete? No? E allora lasciatela. E allora lasciatela. Cosa?